Dora! Pronto regia? Pronto. Questo è un collegamento speciale. Da uno studio di fortuna vi trasmettiamo le ultime immagini a noi pervenute. Non sappiamo se la trasmissione potrà svolgersi normalmente e per questo ci scusiamo con i telespettatori. Sono immagini disperate che solo in parte riescono a darci un'idea dell'immane shagura che sconvolge il mondo. Ecco sullo schermo l'ondra che brucia. Ecco sullo schermo l'ondra che sconvolge il mondo. Rivolgiamo a tutti un appello alla calma e alla fiducia. Oggi le scelte e l'ultima parola spettano i cervelli elettronici che non hanno i dubbi e le esitazioni di un uomo. Oggi le scelte e l'ultima parola spettano i cervelli elettronici e le esitazioni di un uomo. Oggi le scelte e l'ultima parola spettano i cervelli elettronici e le esitazioni di un uomo. L'evidenza delle immagini non ha bisogno di commento. Tutta una civiltà distrutta. Bisognerà ricominciare da capo. Pronto? Pronto? Maggiore? Ci colleghiamo con la base elicotteri del Comitato Mondiale di Riordinamento per intervistare il Maggiore Mario Vulpiani che ci ha portato un agghiacciante documento su Roma. È l'ultima missione compiuta durante la catastrofe totale. No, non è possibile. Sono riuscito a riportare il filmato per miracolo. Non possiamo più né atterrare né ripartire. No, non è possibile. Non sono riuscito a riportare il progno. Grazie a tutti. Siamo dalla televisione, ma chi trasportate? Ma voi trasportate il Papa? Fateci parlare un attimo, forse l'ultima trasmissione per il mondo è importante. Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei peccati. Santo Padre, dica qualcosa per tutti i suoi figli nel mondo. Perché peccando ho macchiato l'anima mia. Ho perduto il paradiso, ho meritato l'inferno e molto più perché ho offeso a voi che siete infinitamente buoni e degni di essere amati sopra ogni cosa. Vorrei prima essere morta che avervi offeso e propongo fermamente col vostro santo aiuto di non... Santo Padre, dica qualcosa. Grazie. 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 Grazie.